Oh ragazzi! Here we are! Babymetal di nuovo! Live at Wembley 2016. We can't waste time! You know me, bass player and singer from Italy. I'm really ready! Ragazzi, Babymetal di nuovo! Questo amico mi ha dato questo pezzo live a Wembley 2016. Amore! The title is Love! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Oh, there is a kind of epicness in this art! All right! All right! All right! All right! All right! All right! questo è davvero bello anche se questa melodia mi ricorda di un altro canale ma... oh my god Oh my lord! Oh Guys, you were right telling me this band Embrace a lot of different genres of music because this is of course Hardcore punk rhythm And you told me this band embrace a lot of different genres and This is the reason why I appreciate this band a lot This song has one of the best melodies and Oh Please a week myself. Oh, I can't believe what I'm watching This again seems to come out from a cartoon and she dress very cool Oh My lord Oh 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 No! 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 Oh my God! Did you listen the solos of the bass at the minute 2.45? And now this burst of drumming. And here Su Su is very protagonist here singing on the stage. She's alone on the stage. All for her. No dancers were there. Oh wow, guys! I think you wanna see back with me. I'm sure you wanna see back the solos, isn't it? Yeah! Sure! Oh haha! Oh! The same sound. Oh for the billy kid. The bass I played with?! It's amazing! Oh jump! It's super good! Grazie a tutti Oh my god Man No Oh my god Oh my god Grazie per la visione Grazie per la visione Oh yeah girl, nicely done this kick at the end And guys, isn't it one of the coolest ever Babymetal songs? I enjoyed this one a lot The instrumental section is sick here Oh my lord, guys, really? Oh man How can I speak Italian now? That I'm speechless A big punch and a big kick in my cheeks Oh, what an experience OMG, man Checkmate Giacomo James Checkmate Giacomo James Of course, checkmate for me I'm not able to speak Italian Ragazzi, devo dirvi qualcosa anche in italiano Ma Un grande pugno e calcio In una guancia con un'altra Ma l'ho steso questa praticamente Perché Gli assoli Al minuto del 40 Due volte le chitarre Il basso Una roba Da piovra Cioè lo suona Come se avesse al posto delle mani Una piovra E poi questa performance Su Wakanora È veramente incredibile Questa contraddizione Fra questo cantato Da cartone animato E E Questi potenti riff metal Questo batterismo Che è A tratti Diciamo Hardcore Punk E a tratti metal Alla grande Con la doppia cassa Heavy Power Speed Oh Gesù mio E lei che personalità Pieda sola Senza le ballerine attorno Tiene il palco Alla grande Ragazzi Che vi devo dire Dai Pauroso Pauroso Poi si chiama amore Piedi così Suscita amore Ragazzi Sono davvero Spicchless Sono davvero Spicchless Questa band È così Various E ancora Questa cartone Cantare Contradicazione Con questa parte Instrumentale È La cosa Che di questa band Sono davvero Lo amico E E Reagirò A Akatsuki E Poi Mi Mi Senti Un link Ora Questi Figli Sono Un link Ma Con È Un 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 Ciao!